Ciao ragazzi, io sono Enrico Pasquale Pratico a Butamotta San Giovanni, ho 22 anni e sono un ragazzo carino e quelli ragazzi che mi piacciono a me mi piacciono biondi, capelli neri, macri, bellissimi, sex, che facete voi? Io sono a casa, lavoro, zappo, a vigna, sono un carino ragazzo, trovate a me su prozappo Enrico Pasquale Pratico, il mio numero lo do a Giovanni Zaccuri, così mi trovate voi e su prozappo Enrico Pasquale Pratico, ciao. La mia vita sono qua, io cattavo la play session 3, ho il telefono Samsung Galaxy Grand Neo e voi che facete? Ciao.